La Lombardia vuole seguire la Puglia e altre regioni d'Italia presentando un progetto di legge regionale per garantire l'assegnazione del pediatra di libera scelta ai figli di immigrati senza permesso di soggiorno. Lo ha firmato e presentato Umberto Ambrosoli, coordinatore dell'opposizione nel Consiglio regionale Lombardo. Si tratta di fare questo piccolo passaggio in più per risolvere la questione e garantire quindi l'assistenza pediatrica ai bambini anche nella nostra regione. Ciò che da marzo ad oggi hanno fatto tante altre regioni italiane. Nell'occasione Ambrosoli ha affrontato anche il tema, quanto mai di attualità, dei recenti atti di razzismo avvenuti in campo politico e non solo. Abbiamo in modo particolare nel ministro che è destinatario principale di gesti di intolleranza l'esempio di come si debba reagire. Cioè con molta calma, con molta serenità, senza suscitare polemiche, ma dicendo il problema non è mio che subisco l'intolleranza, il problema è che dobbiamo aiutare chi vive l'intolleranza come una parte della propria cultura, della propria identità. Milano ha ancora il cuore in mano per citare un vecchio proverbio. Milano è la patria dell'accoglienza di chi ha bisogno. Lo è nei fatti e nonostante i gesti di intolleranza di tantissime. Abbiamo esempi straordinari da questo punto di vista, anche nei vescovi che si sono succeduti negli ultimi anni. La solidarietà, l'assistenza, il farsi carico degli altri, al di là degli slogan che alcuni utilizzano per parlare direttamente alla pancia invece che alla testa di tanti cittadini.